All'interno di un ciclo produttivo può essere necessario effettuare attrezzaggi frequenti. Operazione che richiede tempo e precisione da parte dell'operatore. Per questo motivo le piegatrici Amada, dotate di ATC, permettono di abbattere sensibilmente i tempi di setup e di diminuire il rischio di errore da parte dell'operatore. Grazie per la visione!